Che cosa è emerso nell'incontro di ieri? Ieri nell'incontro con il presidente Ceriscioli è emerso che per quanto riguarda la localizzazione i suoi punti preferiti sono Muraglia e Fossoseiore mentre ha scartato disegnandoci sopra una bella X case bruciate e chiaruccia. Tra le altre cose ha detto che la formula di finanziamento è ancora allo studio quindi anche riguardo il pagamento di questa nuova struttura non si sa bene che formula si utilizzerà e poi soprattutto la cosa per noi fanesi più preoccupanti anche per tutto la Valle del Metauro è quello che ha detto riguardo le sorti dell'ospedale Santa Croce che diventerà praticamente un ricovero per anziani e stanno studiando la possibilità che ci siano 120 posti, 60 di RSA e 60 di residenza protetta. Attenderà l'esito del referendum? Purtroppo pare che l'esito del referendum non lo attenderà. Ha detto che i tempi saranno, nonostante tutte queste incertezze, brevissimi nella scelta e quindi ha trascurato ieri, nella discussione di ieri, l'importanza di quello che è avvenuto a Fanno cioè la raccolta di ben 4.000 firme di cittadini che chiedono di potersi esprimere. Che cosa volete chiedere adesso al sindaco Seri? Al sindaco Seri vorremmo chiedere di farsi promotore delle istanze del territorio perché Fanno è capofila di tutta la vallata, l'ospedale di Fanno non riguarda solo la città di Fanno ma quindi tutto questo territorio e tutta la vallata si aspetta che il sindaco si metta adesso di traverso in modo molto più forte di quello che ha fatto finora perché proporre alternativamente Chiaruccia o un'altra sede come la settimana scorsa che è quella di Carignano dimostra solo una debolezza nella sua posizione mentre ci aspetteremmo che dicesse un no chiaro a questo progetto soprattutto per i metodi poco democratici, poco limpidi, poco partecipati che si sta mettendo in atto da parte della Regione.